Tra poco la pagina sportiva, prima però vogliamo andare a Cavernago dove parliamo della lotta a un nemico molto pericoloso, l'amianto. Sentiamo il servizio di Miel Ferri. A Cavernago piovono pezzi di amianto ed ecco che nel paese dei due castelli scatta l'ordinanza anti-Eternit. Nessun fenomeno paranormale, sia chiaro, i componenti in fibra di amianto rinvenuti nei giorni scorsi nelle proprietà di alcuni cittadini provengono infatti dalla tettoia di una fonderia che sorge in via Papa Giovanni XXIII e che a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato gli ultimi eventi atmosferici sono stati sparsi qua e là. Abbiamo effettuato una verifica e ci siamo resi conto che il temporale aveva creato problematiche importanti sul tetto di un'azienda che è presente a Cavernago negli anni 70. Una problematica è quella dell'Eternit che era già emersa quattro anni fa. L'azienda aveva eseguito un intervento per sigillare il tetto a seguito della sigillatura e era stata indicata la bonifica entro i quattro anni. All'esito quindi dei fenomeni temporaleschi e della perizia che c'era in comune è stata disposta questa ordinanza contingibile e urgente per ragioni sanitarie che è stata accolta con favore dalla proprietà che si è detta disponibile a intervenire e anche a valutare la possibilità di dismettere l'azienda. L'ordinanza dispone infatti che vengano rimossi tutti i materiali contenenti amianto presenti nell'edificio entro 75 giorni dalla notifica del provvedimento. L'azienda dovrà quindi provvedere allo smaltimento dei componenti consegnandoli donna documentazione. Pena, una multa fino a 500 euro e una denuncia all'autorità giudiziaria oltre che l'esecuzione in danno. Questa possibilità di dismissione dell'azienda consentirà al Paese di sviluppare una zona residenziale e di risolvere comunque una problematica ambientale presente.